Ciao e benvenuto in questo nuovo video. Per te la favola del principe Ranocchio. Nei tempi antichi, quando ancora a desiderare serviva qualcosa, c'era un re, le cui figlie erano tutte belle, ma la più giovane era così bella che perfino il sole, cheppure ha visto tante cose belle e meravigliose, si meravigliava quando le brillava in volto. Vicino al castello del re c'era un gran bosco, tenebroso, e nel bosco, sotto un vecchio tiglio, c'era una fontana. Nelle ore più calde del giorno la principessina andava nel bosco e sedeva sul ciglio della fresca sorgente e quando si annoiava prendeva una palla d'oro, la buttava in alto e la ribigliava. E questo era il suo gioco preferito. Ora avvenne un giorno che la palla d'oro della principessa non ricadde nella manina che essa tendeva in alto, ma cadde a terra e rotolò proprio nell'acqua. La principessa la seguì con lo sguardo, ma la palla sparì e la sorgente era profonda profonda perdita d'occhio. Allora la principessa cominciò a piangere e pianse, pianse, pianse sempre più forte e non si poteva proprio consolare. E mentre così piangeva qualcuno le gridò. Che cos'hai principessina? Tu piangi per far pietà ai sassi. Lei si guardò intorno per vedere donde venisse la voce e vide un ranocchio che sporgeva dall'acqua la sua grossa testolina deforme. Ah, sei tu vecchio ranocchio, disse. Piango per la mia palla d'oro che mi è caduta nella fonte. Chietati e non piangere, rispose il ranocchio. Ci penso io. Ma che cosa mi darai se ti ripesco la tua palla? Quello che vuoi caro ranocchio, disse la principessa. I miei vestiti, le mie perle, i miei gioielli, magari anche la mia corona d'oro. E il ranocchio rispose. Le tue vesti, le perle e i gioielli e la tua corona d'oro io non li voglio. Ma se mi vorrai bene, se potrò essere il tuo compagno e amico di giochi, allora sì che sarò felice. Sedere con te alla tua tavola, mangiare nel tuo piatto, bere nel tuo bicchierino e dormire nel tuo lettino. Se mi prometti questo, mi tufferò e ti riporterò la palla d'oro. Ah, sì, disse la principessa. Ti prometto tutto quello che vuoi purché mi riporti la palla. Ma pensava, cosa va blatterando questo stupido ranocchio che sta nell'acqua a gracidare coi suoi simili? E non può essere il compagno di una creatura umana. Ottenuta la promessa, il ranocchio mise la testolina sott'acqua, si tuffò e poco dopo tornò remigando alla superficie. Aveva in bocca la palla e la buttò sull'erba. La principessa era piena di gioia. Aspetta, aspetta, gridò il ranocchio. Prendimi con te, io non posso correre come fai tu. Ma la principessa non l'ascoltò e corse a casa e ben presto aveva dimenticato la povera bestiolina. Il giorno dopo, quando si fu seduta a tavola col re e tutta la corte, mentre mangiava dal suo piattino d'oro, splish splish, qualcosa salì balzelloni la scala di marmo e quando fu in cima, bussò alla porta e gridò, figlia di re piccina, aprimi. La principessa corse e vede chi c'era fuori, ma quando aprì non vide nessuno, anzi si ritrovò davanti il ranocchio. Sbattè forte la porta e sedette di nuovo a tavola piena di paura. Il re si accorse che la principessa batteva forte forte il cuore e disse, di che cosa hai paura bimba mia? Davanti alla porta c'è forse un gigante che ti vuole rapire? Ah no, disse la principessa, non è un gigante ma un brutto ranocchio. Che cosa vuole da te questo ranocchio? Ah babbo mio, ieri mentre giocavo nel bosco vicino alla fonte, la mia palla d'oro cadde nell'acqua e perché piangevo tanto il ranocchio me l'ha ripescata e perché ad ogni costo lo volle, gli promisi che sarebbe diventato il mio compagno ma non avrei mai pensato che potesse uscire da quell'acqua, adesso è fuori e vuol venire da me. Intanto si udì bussare per la seconda volta e gridare, figlia del re, figlia piccina, aprimi. Non sai più quel che ieri mai detto vicino alla fresca fonte? Figlia del re, figlia piccina, aprimi. Allora il re disse, quel che hai promesso figlia mia devi mantenere, va dunque ed apri. Lei andò ed aprì la porta, il ranocchio entrò e sempre dietro a lei saltellò fino alla sua sedia e lì si fermò e gridò, sollevami, la principessa esitò, ma il re le ordinò di farlo. Appena fu sulla sedia il ranocchio volle salire sul tavolo e quando fu sul tavolo disse, adesso avvicinami il tuo piattino d'oro perché mangiamo insieme. La principessa guardò il padre ed obbedì, ma si vedeva benissimo che lo faceva contro voglia. Il ranocchio al contrario lo mangiò con appetito, ma a lei quasi ogni boccone rimaneva in gola. Infine disse, ho mangiato a sazietà e sono stanco. Adesso portami nella tua cameretta e metti in ordine il tuo lettino di seta, andremo a dormire insieme. La principessa si mise a piangere, aveva paura del freddo ranocchio che non sava toccare e che ora doveva addirittura dormire nel suo lettino pulito, ma il re andò in collera e disse, bimba mia non devi disprezzare chi ti ha aiutato nel momento del bisogno. E allora lei prese la bestiolina con le sue dita e la portò di sopra e la mise in un angolo, ma quando fu a letto il ranocchio venne saltelloni e disse, sono stanco, voglio dormire bene e lo voglio fare con te, tirami su o lo dico a tuo padre. E allora la principessa andò in collera, lo prese e lo gettò con tutte le sue forze contro la parete. Adesso starai zitto brutto ranocchio. Ma quando cade a terra non era più un ranocchio, era un meraviglioso principe, dagli occhi ridenti. Per volere del padre egli era il suo caro compagno e sposo. Le raccontò che era stato stregato da una cattiva maga e nessuno all'infuori di lei avrebbe potuto liberarlo. Il giorno dopo sarebbero andati insieme nel suo regno e poi si addormentarono. La mattina dopo, quando il sole li svegliò, arrivò una carrozza con otto cavalli bianchi che avevano pennacchi bianchi sul capo e i finimenti d'oro. E dietro c'era il servo del giovane re, il fedele Enrico. Enrico si era così afflitto quando il suo padrone era stato trasformato il ranocchio che si era fatto mettere tre cerchi di ferro intorno al cuore perché non gli scoppiasse dall'angoscia. La carrozza doveva portare il giovane re nel suo regno. Il fedele Enrico vi fece entrare i due giovani, salì dietro ed era pieno di gioia per la liberazione. Quando ebbero fatto un tratto di strada il principe udì uno schianto come se dietro a lui qualcosa si fosse rotto. Allora si volse e gridò. Enrico qui va in pezzi la carrozza. No padrone non è la carrozza bensì un cerchio del mio cuore che era immerso in gran dolore quando dentro alla fontana tramutato fosta in rana. Per due volte ancora si udì uno schianto durante il viaggio e ogni volta il principe pensò che la carrozza andasse in pezzi. E invece erano soltanto i cerchi che saltavano via dal cuore del fedele Enrico perché il suo padrone era tornato libero e felice e tutti vissero felici e contenti. Buonanotte!